5, 4, 3, 2, 1, vai, 100 sinistra 3, in destra 2 chiude, in sinistra 5, 100 in destra, in inversione destra, 100, tieni sinistra Bershikkan stretta, e sinistra 3, 40 sinistra 3, 20 tornante destro, 40, tornante sinistro, 40, tornante destro, 50, destra 2, e tornante sinistro ampio, 20, tornante destro, 80, destra 2, in tornante sinistro, 60, tieni sinistra Bershikkan, in tornante destro ampio, 100, sinistra 3, in destra 2 chiude, in sinistra 5, 100 in destra, per inversione destra, 100, tieni sinistra Bershikkan stretta, e sinistra 3, 40, sinistra 3, 20, tornante destro, 40, tornante destro, 40, tornante destro, 50, destra 2, e tornante sinistro ampio, 20, tornante destro, 80, destra 2, in tornante sinistro, 60, tieni sinistra Bershikkan, esci.